Io nella mia breve presentazione dico che qualcuno fra qualche anno non ricorderà più che il Vallo di Diano era un antico lago pleistocenico, conquistato con la fatica e con il sudore delle generazioni che ci hanno preceduto per dare terra fertile all'agricoltura. Di agricoltura hanno vissuto generazioni per migliaia, per secoli, per centinaia e centinaia di anni. La società del benessere che noi oggi viviamo è frutto di quei sacrifici. Il paradosso però nei paradossi è che negli ultimi 50 anni ci siamo dimenticati assolutamente di quali erano le nostre origini, di tutto quello che l'uomo ha fatto per conquistare la terra e di tutto il benessere che la terra è riuscita a produrre per questo comprensorio. Di conseguenza anche in barba a quella che era la pianificazione urbanistica, a quelle che erano le regole relativamente a una pianificazione un po' più generale per lo sviluppo di questo comprensorio, abbiamo cementificato un po' dappertutto questa valle. Abbiamo tolto terreno fertile all'agricoltura donandolo al cemento e quindi a un'urbanizzazione senza nessun tipo di pianificazione, creando danni ambientali e ecologici da un lato, ma soprattutto creando un miraggio che non ha prodotto poi alla fine i risultati attesi. Ossia oggi stiamo vivendo di nuovo un fenomeno straordinario che è l'emigrazione trasversale, che attraversa naturalmente tutto il Mezzogiorno d'Italia, ma fa pagare conseguenze enormi soprattutto alle aree interne, come nel caso specifico il Vallo di Diano. Ci troviamo di fronte all'abbandono assoluto delle terre, terre naturalmente fertili in questa valle e il paradosso dei paradossi ci troviamo di fronte a centinaia e centinaia di giovani disoccupati che sono in attesa di un qualche cosa che deve venire, senza poter individuare un'unica via d'uscita, a mio avviso, che è il ritorno alla terra. Ritorno alla terra perché la terra è dignità, è lavoro, è responsabilità e soprattutto cultura, perché la cultura del mondo contadino ha creato basi solide su cui noi altri siamo cresciuti anche intellettualmente e culturalmente, di conseguenza bisognerebbe fare un mezzo passo indietro, le istituzioni, la politica in generale, ecco ritorna sempre il tema della politica, dovrebbe decidere che investire in direzione agricoltura, in direzione terra, quindi potenziare il sistema primario significa creare una speranza per le generazioni che verranno, ma oserei dire anche per le generazioni attuali. Ecco, tu parli nel tuo libro, c'è la storia di un ragazzo che invece ha scelto di restare qui, Antonio, che cosa ha fatto lui? Ma più che restare, Erminio, io direi quasi di tornare qui, perché poi alla fine in un momento così delicato, dove non si riesce davvero a trovare una via d'uscita relativamente all'occupazione, al mondo del lavoro, lavorando a questo mio saggio, a un certo punto quasi per caso ho incontrato questo ragazzo che ha attirato la mia attenzione e l'ho incontrato due volte e mi sono fatto raccontare la sua storia, una storia particolare che poi alla fine ho deciso di essere degna di chiusura proprio di questo saggio giornalistico. Diciamo che il capitolo dedicato a questo giovane è il coraggio e le speranze di Antonio. Il coraggio di, dopo tre anni di cassa integrazione, dopo aver lavorato in fabbrica, dopo essere stato senza lavoro, è andato al nord tendendo una strada che alla fine non era la sua, ha deciso di investire quelle poche risorse economiche di cui disponeva, nella fattispecie 7 mila euro, e ha messo su un greggio di capre. Ed è tornato alle origini, è tornato alla pastorizia. Sono circa quattro anni adesso che fa questo mestiere. Lui vive della soddisfazione di un mestiere antico, qual è quello dell'agricoltore, quindi in questo caso del pastore. Vive nelle montagne, trasforma i prodotti del suo greggio, non ne riesce a produrre abbastanza per quanta richiesta c'è dei suoi prodotti. Però alla fine Antonio si interroga, questa società in che ruolo, come mi considera? Come considera una persona, un giovane soprattutto, che fa una scelta del genere? Antonio dice io ho 29 anni, vorrei crearmi una famiglia, ma nella sostanza chi lo sposa un pastore oggi? E qui davvero si apre un interrogativo forte. Mentre le nostre mogli, le nostre massaie vanno nei negozi, nei supermercati, e vanno alla ricerca del prodotto altamente qualitativo da mettere sulle nostre tavole, poi il paradosso nei paradossi è che nessuno di noi si interroga che dietro quel prodotto ci sono delle persone, ci sono delle vite, ci sono delle storie e soprattutto ci sono persone coraggiose, come nel caso di Antonio, ed ecco perché chiudo il mio saggio con il racconto, con la storia di questo ragazzo, che hanno deciso che piuttosto che andare, hanno deciso di tornare o restare, come dici tu, e ritornare tra virgolette a quelle che erano le nostre origini. Le nostre origini che danno dignità e ruolo e che soprattutto creano una prospettiva. Ecco perché rispondo alla fine, alla tua domanda iniziale, non lo so se è l'agricoltura la soluzione. Io credo di aver individuato una mezza risposta, che è questa, quindi dare più ruolo all'agricoltura, alla pastorizia, dare ruolo soprattutto al mondo agricolo in senso lato. Da qui si può ripartire per uscire da questa crisi che sta facendo vittime illustre ogni giorno.